... per lui al primo giro. Juan Carlos Garcia è nato il 2 ottobre del 67 a Bogotà, campione juniores nel suo paese nell'84 e nell'85, attualmente vive in Belgio, ottavo ai giochi panamericani 87 a Indianapolis. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il cavaliere colombiano, vedete di fronte al verticale arcobaleno alto 1,52 m, si trova di fronte a una riotiosità da parte del proprio cavallo, 3 penalità per lui, diventano 7, quindi sfuma anche per Juan Carlos Garcia la possibilità di vittoria in questo Gran Premio Roma. Direi che dovranno darsi un bel da fare Stanny Van Peschen ed Elena Weinberg per sopravvanzare il leader attuale della classifica, che è l'olandese Dion Van Groesen. Quattro penalità, però questi due cavalieri, vi ricordo, possono contare su una prima manche senza errori. 7 penalità, però questi due cavalieri sono stati 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 stat